Il giorno e la storia Oggi è il 17 febbraio 1977, Luciano Lama contestato in un comizio alla Sapienza 2008, nasce la Repubblica del Kosovo 1600, Giordano Bruno muore sul robo Commenta il fatto del giorno Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e Trentino Oggi parlo dell'arresto di Mario Chiesa, inizio della stagione di Mani Pulita Grazie a tutti